Marcello Foa giornalista, saggista, scrittore e autore recentemente del libro dal titolo Il sistema invisibile perché non siamo più padroni del nostro destino edito da Guerini e associati. Anzitutto benvenuto, grazie per aver accettato questo invito. Grazie, è il piacere mio e il piacere di ritrovarvi dopo alcuni anni della mia ultima intervista con voi. Allora io inizierei subito dal sottotitolo del libro che contiene un'affermazione molto forte ovvero noi non siamo più padroni del nostro destino. Nel libro poi lei spiega il come e il perché. Ma su cosa si basa questa sua affermazione? Ma da una constatazione noi dovremmo essere in democrazia padroni del nostro destino perché democrazia significa governo del popolo e per cui diciamo così fatto salvo il margine che c'è sempre di adattabilità all'attualità politica in teoria la volontà del popolo, dei cittadini dovrebbe essere rispettata e dunque i cittadini attraverso il vuoto dovrebbero esprimere le loro opinioni e il loro orientamento. In realtà questo non accade non soltanto per una questione politica quanto perché noi siamo immersi in un sistema che riguarda la politica, le istituzioni, l'economia, la sociologia, psicologia, i media, cioè un sistema ampio apparentemente scollegato ma che in realtà è coerente e le cui influenze alcune visibili altre invisibili ma rintracciabili determinano lo stato in cui noi viviamo adesso, cioè uno stato di disagio, di malessere che non riusciamo mai a focalizzare e in cui in ultima analisi noi non riusciamo più a governare la società in cui siamo immersi e questo è un problema, quel che ho cercato di fare in questo libro è di spiegare come questo sia possibile perché senza una consapevolezza collettiva non credo che i nostri sistemi possano riprendere il controllo del proprio destino che invece è lo scopo a cui dovremmo tendere tutti. E lei scrive che continuiamo ad eleggere i governi ma che in realtà poi le decisioni importanti spesso vengono prese al di fuori dei parlamenti ma allora a questo punto le chiedo cosa sono diventate le nostre istituzioni politiche e soprattutto quale valore ha il voto elettorale? Poi noi abbiamo votato fra l'altro da poco. Sì, è un voto relativo, cioè noi siamo in uno stato paradossalmente ibrido, cioè non siamo più una vera e propria democrazia sovrana, infatti il sovranismo è diventato quasi un insulto, che si dice sovranista diventato subito come quasi un estremista, ma non siamo neanche una dittatura perché oggettivamente una dittatura è altra cosa. Siamo in questo stato ibrido in cui i parlamenti e i governi hanno possibilità di legiferare o di cambiare le cose in ambiti limitati e non più ampi come era fino a qualche tempo fa. E questo perché le nostre democrazie sono immerse in una struttura che di fatto rappresenta una gabbia invisibile, una struttura fatta di regolamenti e organizzazioni sovranazionali che esercitano dei condizionamenti che in tempi normali nessuno riesce a capire e a cogliere, ma che nei momenti decisivi, critici della storia di ogni paese diventano decisivi. E questo spiega spiega perché, tra l'altro, i governi che abbiamo eletto negli ultimi anni e i leader politici a cui gli italiani hanno dato fiducia hanno avuto dei percorsi molto simili. Pensiamo a Renzi, arriva al 40% e nell'arco di pochi mesi crolla. 5 Stelle 34% e poi crollano. Salvini alle elezioni europee 32-34, non ricordo più, e poi è andato giù. Ora tocca la Meloni, io mi auguro che Giorgia Meloni faccia un ottimo lavoro, di cui sono davvero, guarda con molta simpatia e fiducia. Però il rischio che a sua volta non possa fare tutto quel che ha in mente o che vuole davvero fare il suo intimo è piuttosto elevato, proprio perché ci sono questi condizionamenti che impediscono ormai di esercitare veramente la sovranità popolare sui destini di un paese. Quindi lei parla di logiche e condizionamenti che appunto colpiscono la nostra società, ma possiamo fare un esempio pratico per far capire meglio a chi ci sta ascoltando e come agisce questo sistema e poi anche quali ripercussioni ha, come riesce a condizionare concretamente la nostra società? Ma guarda, l'esempio più evidente, ma questo è abbastanza noto, è l'Unione Europea, che non è un super stato, non è uno stato federale, ma quando tu aderisci all'Unione Europea devi rispettare almeno 34 capitoli essenziali, cioè 34 argomenti sui quali tu devi aderire alla normativa europea. E da lì in avanti le tue leggi nazionali non possono andare in contrasto con le leggi europee. E da lì in avanti ogni manovra economica deve essere approvata da Bruxelles. Questo significa che un paese che volesse cambiare radicalmente rotto, fare un investimento di lungo periodo, cambiando politica sociale ed economica, non può farlo se l'Unione Europea non gli dà via libera. Ma ci sono altri condizionamenti. Io nel libro parlo dello SWIFT. Uno SWIFT di solito è quella vocina che noi vediamo sotto l'Iban quando facciamo un bonifico. E credo che nessuno di noi, a parte chi lavora in banca, ci abbia mai prestato tanta attenzione. Noi diciamo, sarà un codice bancario, siamo specialisti. In realtà il SWIFT è il codice che permette le transazioni finanziarie tra un paese e l'altro. Senza lo SWIFT tu non puoi trasferire nulla. E allora il punto fondamentale è che quando tu vuoi imporre sanzioni come è avvenuto la scorsa primavera nei confronti di molte banche e società russe, un motivo molto efficace è toglierlo dallo SWIFT. Perché a quel punto questa banca non può più scambiare nulla, neanche un bonifico da 50 euro con nessun'altra istituzione in giro per il mondo. Il punto fondamentale è chi è lo SWIFT, chi decide il suo board, da chi è composto, da quali norme rispetta. In realtà scavando uno sui siti trova tutte queste informazioni, ma sono argomenti così tecnici, così noiosi, così lontani da sentire comune che né i parlamenti nazionali e men che meno la stampa se ne occupa. Perché chi va a leggersi un articolo in tempi normali sullo SWIFT? Forse tre studiosi. Però il punto è che poi nei momenti cruciali ecco che lo SWIFT si fa sentire. E così c'è tutta una rete di queste organizzazioni sovranazionali molto più estesa di quanto ci si immagini. io più vado avanti e più ne scopro, poi ovviamente non le ho messe tutte nel libro, altrimenti diventava troppo pesante perché ho fatto alcuni esempi simbolici, ma è una rete molto estesa per cui ad esempio c'è un organismo che governa internet ma nessuno lo sa. C'è un organismo che determina quali sono le radiazioni dei cellulari, c'è un organismo che determina quali sono le radiazioni elettromagnetiche che sono tollerabili. Nessuno ne conosce l'esistenza, ma in base alle sue decisioni gli stati stabiliscono i parametri di tolleranza. Ora il punto fondamentale è che su tematiche così importanti non c'è consapevolezza e noi prendiamo decisioni che in realtà vengono apprese altrove e senza che si sappia come, con quali criteri, se ci sono conflitti di interesse, chi sono gli esperti e così via. Ma ripeto non è segreto perché è tutto dichiarato. Il problema è che ne interessa quasi a nessuno perché pochi sanno di questo meccanismo. Il mio libro vuole essere anche un invito alla stampa e ai cittadini a considerare questo fattore perché è un fattore essenziale. Lei parla infatti anche nel libro del mondo della comunicazione, dell'informazione, in particolar modo della manipolazione e del condizionamento delle masse. È un argomento che fra l'altro lei aveva già trattato in un precedente libro, in tempi non sospetti, nel libro dal titolo Gli stregoni della notizia. Lei devo fare una domanda, spero non le sembra inopportuna, perché lei è stato presidente RAI dal 2018 al 2021. Quanto lei scrive in questo libro? Questa sua esperienza incide su questa sua analisi che riguarda il mondo della comunicazione, del giornalismo e quindi anche la manipolazione? Diciamo così, l'esperienza RAI è stata un'esperienza molto interessante e unica, perché ovviamente poter essere presidente di una realtà così importante e grossa capita poche volte nella vita, spesso non capita neanche, per cui io l'ho vissuta, è stata un'esperienza molto difficile per molti versi e soprattutto questa esperienza mi ha reso consapevole della difficoltà di poter cambiare davvero le cose dentro alle istituzioni. Per cui da quando ho fatto questa esperienza in RAI mi sono molto raffreddato su questi anche opinionisti o anche certi leader politici che sanno infiammare molto bene le folle, fare grandi promesse, perché so già che difficilmente riusciranno a cambiarle e mi ha reso consapevole del fatto che le insidie sono doppie, c'è da un lato i condizionamenti esterni di cui parlo nel libro, ma ci sono anche dei condizionamenti interni perché poi le regole delle singole istituzioni sovrastano e dominano qualunque volontà di riforma. Per una ragione molto semplice, uno è il presidente della RAI ma è come di qualunque altro controllato dallo Stato per tre anni. Dopo tre anni quasi sempre tu te ne vai, ma chi lavora dentro questa istituzione rimane e per cui tu arrivi e non conosci quella realtà, loro conoscono tutto di quella realtà. Allora pensare di poter cambiare rotta cultura in appena tre anni è una cosa assurda, nessuno ci riesce, però nessuno lo dice con chiarezza e allora si creano delle aspettative che poi vengono sistematicamente deluse. Allora il mio messaggio è attenzione, non è più l'epoca dei proclami facili, delle accuse infiammate eccetera, ma per chi vuole cambiare le cose è l'epoca in cui bisogna costruire qualcosa di diverso e di duraturo che è molto più faticoso, molto più complicato. E parlando di informazione, da un po' di tempo la censura sul web si è fatta sempre più severa e riguarda molto spesso anche quei canali di informazione che sono alternativi rispetto al mainstream, ma in questa censura quanto c'è, quant'è realmente necessaria per arginare il fenomeno reale delle fake news e quanto invece c'è di strumentale a danno poi alla fine della libertà di parola, di espressione, ma soprattutto del pluralismo dell'informazione e soprattutto questa censura è il segnale che c'è una forzatura per tentare di allineare il web al mainstream. Purtroppo la risposta è sì, io sono molto critico nei confronti di ogni forma di censura perché la mia cultura è liberale, la mia cultura mi induce a difendere con forza e convinzione la democrazia ma noi non possiamo delegare a delle organizzazioni private che poi in realtà tanto private non sono perché sono collegate al Pentagono e al governo americano, come spiego nel libro, non è complottismo basta andare a guardare la storia di queste grandi società a partire da Google per accorgerci del rischio che con la pretesa di lottare contro le fake news si imponga e sta già avvenendo una censura che limita la pluralità di informazioni. Allora la democrazia è un sistema in cui nessuno deve aver paura di esprimersi e non è accettabile che vengono buttate fuori opinioni importanti, hanno eliminato addirittura un ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il punto è che purtroppo noi siamo diventati dipendenti da questi grandi gruppi della Silicon Valley che pertanto possono influire e lo fanno anche con esperimenti mirati sulla libera informazione e sulla libera coscienza dei cittadini e questo è un tema sensibile che dovrebbe essere portato con maggior vigore all'attenzione pubblica, cosa che purtroppo non accade a sufficienza. Lei ha detto una parola chiave, complottismo, che è una parola utilizzata tantissimo ultimamente. Cosa ne pensa di questo atteggiamento di chi usa questa parola per dittire, screditare l'interlocutore, molto spesso anche persone che hanno una credibilità, che hanno un'autorevolezza per parlare di certi argomenti? Sì, nel libro spiego come in realtà questa accusa sia frutto di una scelta, in parte anche casuale, che fu un tentativo che risale ai tempi dell'omicidio Kennedy e mi spiego. Quando fu pubblicata le risultanze della commissione Warren sull'omicidio Kennedy, una buona parte, una parte crescente dell'opinione pubblica le contestò, ritenendole poco verosimili. E allora la CIA a un certo punto non sapeva più come fare a ricondurre nel fiume, all'interno degli argi dell'opinione pubblica. E allora a un certo punto dissero, ma provate a, lo dissero da alcuni giornalisti amici, provate ad accusare chi parla, chi contesta la commissione Warren dicendo di essere complottista. E la cosa ebbe un effetto notevolissimo, perché quando tu accusi qualcuno di complottismo, che cosa succede? Succede un fenomeno che vediamo sistematicamente. Tu devi dimostrare di non essere complottista, l'attenzione si sposta non sulle tue idee, ma sulla tua persona, sei costretto a rinculare, sei costretto sempre a precisare, e a screditarti, discolparti in principio, ma in realtà ti hanno già screditato. E dunque alla fine non si parla mai del merito della tua opinione, che invece molto spesso dovrebbe essere discussa, soprattutto quando viene portata da esponenti autorevoli, credibili e specializzati in quella materia. Allora, questa tecnica è diventata ormai ricorrente, è diventata molto violenta negli ultimi anni, e viene usata mai in ogni ambito. Chi aveva dei dubbi sui vaccini, dubbi che come abbiamo visto erano molto legittimi, era automaticamente un no-vax, chi aveva dubbi sulla saggezza della guerra in Ucraina era automaticamente un putiniano, e così via. Chi ha dubbi sulla svolta green è automaticamente un inquinatore, eccetera, eccetera. Allora, questo purtroppo è molto pericoloso, perché inibisce un dibattito sereno e costruttivo dentro la società. E ha accennato ai vaccini e alla pandemia. C'è chi ipotizza che la pandemia appunto sia stata strumentalizzata proprio per imporre più velocemente alla società e rendere anche più accettabili dei cambiamenti che poi sono funzionali a questo sistema invisibile? È un'ipotesi verosimile? Non lo so. Qui ho imparato a non avanzare ipotesi su argomenti sui quali non ho prove fattuali. Quel di cui sono invece certo è il fatto che noi siamo di fronte a un problema molto grave che è l'indipendenza e l'autorevolezza degli organismi di controllo, dall'OMS all'AIFA, all'EMA, eccetera, eccetera, passando ovviamente per gli Stati Uniti. Allora, il punto principale è questi organismi purtroppo abbiamo visto che sono soggetti a pressioni e a volte anche a interessi anche economici da parte delle aziende farmaceutiche, eccetera. E questo non deve accadere. Cioè, se l'OMS o qualunque organismo nazionale ti dice una cosa su un determinato ambito sanitario, io cittadino devo essere sicuro che chi parla non ha alcun interesse, che chi parla è libero di dire la verità e l'interesse della collettività. Allora, se noi andiamo a analizzare le diverse crisi che si sono succedute negli ultimi anni, mucca pazza, influenza suina, influenza aviaria, Zika, la famosa zanzara killer, fino ad arrivare ovviamente adesso al Covid, noi ci accorgiamo che c'è una discrepanza troppo forte tra quel che sull'onda emotiva viene propagato terrorizzando la popolazione e quel che risulta essere alla prova dei fatti. Questi sono errori che vengono ripetuti costantemente. Allora, io da cittadino consapevole dico questo non deve più accadere e noi dobbiamo poter credere senza riserve a queste istituzioni che però oggi invece sono oggetto di legittimi sospetti. E allora abbiamo detto il nostro destino non è esattamente nelle nostre mani ma è possibile invertire la rotta? Cioè possiamo riprendere in mano il nostro destino e se sì, come? Allora, direi che risponderò a questa domanda nel mio prossimo libro così lasciamo a suspense ai lettori. Mi sembra giusto. Ecco, a parte le battute io non ho la supponenza per dire che cosa andrebbe fatto perché ovviamente non ho questa ambizione. Diciamo che è già tanto poter aprire gli occhi e rendere consapevole il pubblico di questi argomenti. È già un grosso risultato. Se il pubblico è consapevole se c'è veramente una presa di coscienza autorevole questa è già una garanzia un motivo di speranza per la nostra società. Dopodiché ci sono delle dinamiche anche geostrategiche che sono in atto che non sono facilmente prevedibili nel loro esito finale però diciamo così è già tanto preservare l'autenticità dello spirito democratico e mi sembra che tutto sommato da queste crisi che si sono succedute in questi anni ci sia qualcosa di positivo cioè che ci sia uno spirito democratico che continua ad alleggiare tra i popoli occidentali e questo è già motivo di grande conforto. iscriviti al fino a uno a pouco in un'altra parte sui